Salve e benvenuti a questo nuovo episodio della serie Il Grande Mondo del Ripristino dei Capelli, dalla Forer, clinica del Dottor John Cole, in Atlanta, Georgia, a Stati Uniti. La puntata di oggi è una puntata che io definirei di combinazione, perché infatti il titolo è combinando l'estrazione di unità follicolari effettuata tramite la famosa Cole Isolation Techniques o la Cole to Go, nel caso dei capelli non rasati, in particolare quindi la follicola unit extraction è brevettata dal Dottor John Cole. La combinazione è con la micropigmentazione del cuoio capelluto, quello che si chiama in inglese scalp micropigmentation. Perché una puntata su questa combinazione? Perché abbiamo avuto diversi pazienti che presentavano le caratteristiche ideali proprio per questo tipo di trattamento combinato. Due modalità relativamente nuove quelle di cui stiamo parlando, perché l'estrazione delle unità follicolari o FUE e la micropigmentazione del cuoio capelluto sono già da diverso tempo presenti sul mercato del ripristino dei capelli, ma hanno cambiato il trattamento che viene effettuato perché hanno consentito insieme, quindi combinate e ordinate, di ridurre il numero di procedure chirurgiche e i costi totali del processo di ripristino dei capelli. Quindi è qualcosa di interessante, perché è un bridge, è una comunicazione, un ponte, tra due tecnologie che cooperano insieme per raggiungere lo stesso risultato. Quindi queste due modalità, la FUE e la scalp micropigmentation, la chiamerò d'ora in poi SMP per fare più breve il discorso, queste due modalità si integrano alla dicenda quando si trattano pazienti con capelli, radi e un avanzato stato di calvizie. L'esplosione delle procedure FUE, quindi vi do dei dati che sono interessanti, sono passate a 52,6% nel 2016 di tutte le tipologie di trapianti, di capelli che vengono effettuate a livello mondiale. Oggi siamo nel 2018, quindi abbiamo fatto due anni in più, anzi siamo alla fine del 2018, quindi probabilmente questo 52% sarà diventato 63% se non di più. Sono comparsi chiaramente nel frattempo sempre nuovi medici, come funghi, che offrono tecnologie di restauro dei capelli con la tecnica FUE. Questi hanno causato una crescita annuale del mercato del 20% negli ultimi anni, che adesso negli anni a venire, quindi dal 2019 fino al 2022 circa, avrà una crescita quasi del 25% su base annua. A questo punto devo esclamare a gran voce dolori, dolori perché trapianti fatti male e malissimo, sulla base di costi bassi o bassissimi, sono diventati all'ordine del giorno. Lo abbiamo detto tante volte nelle puntate precedenti, ma come dicevano i latini, strizzo un po' gli occhi per la luce del neo, non per altro, ripetite a Juvent, cioè giova a ripetere le cose che sono state dette prima, perché evidentemente c'è una difficoltà di comprenderle o perlomeno di recepirle. L'abbiamo detto tante volte questo discorso sui trapianti fatti male. Allora andiamo in positivo e diciamo che la cosa più importante da fare per voi, per tutti quelli che hanno bisogno di un trapianto o desiderano farlo per questionare i propri capelli, è di andare da chirurghi che siano membri della IAHTS, cioè la International Alliance Health Transplant Surgeon, perché questa association è in grado di dare garanzia di esperienza, serietà, professionalità e soprattutto a consistenza dei propri chirurghi e degli staff che li affiancano. Non ci stancheremo mai di dirvi questo, è molto importante. Ma vediamo adesso da vicino l'uso combinato della Call Isolation Techniques o Call to Go e la micropigmentazione del suo capelluto. vedete mi sono impappinato, era normale perché non ho utilizzato la parola SMP. Da lì in poi ho solo SMP. Non trenterò in nessun modo di dire nuovamente quella parola difficilissima. Comunque andiamo a noi. L'industria dei capelli rifletta un'enorme quantità di prodotti e di servizi. La presenza di diradamento e calvizie genetica è presente nel 50% degli uomini sotto i 50 anni e nel 50% delle donne che sono in post menopausa. Il trattamento cosmetico della caduta dei capelli rientra in tre grandi categorie principali. Quello delle gel, delle mousse e di altri prodotti simili che addensano i capelli aggiungendo umidità al fusto del capello stesso causando il rigonfiamento del medesimo. Sistemi di capelli, quindi quelle che sono chiamate parrucche o parrucchini che aumentano la massa dei capelli nelle zone di diradamento di calvizie con peli animali o sintetici o addirittura umani, costituisce incredibilmente il componente più importante di questa categoria. La seconda categoria è l'uso di correttori, cioè di materiali come polveri, fibre di cheratine, come questo prodotto Shurtick che vi mostro, non perché non lo vendiamo, non lo vendiamo assolutamente, l'abbiamo collaudato, io l'ho collaudato in prima persona, mi sono fatti i capelli neri e devo dire che l'aspetto è veramente notevole. L'unico problema è che dopo circa una giornata si ha bisogno di lavare la testa perché questa polvere compattante, in realtà sono fibre di cheratine, dopo 24 ore è meglio lavarsi la testa. Comunque questo uso di correttori e di materiali viene fatto per ridurre il contrasto tra i capelli e il colore della pelle nelle zone calve o diradanti. E infine arriviamo alla terza grande categoria che è quella dei vari trattamenti chirurgici e non chirurgici, comunque effettuati da personale medico, quindi offerte da medici, come il trapianto delle unità follicolari, quindi la FUE, la micro, ci sono cadute di nuovo, la SMP, che insieme riflettono un'industria che ha il valore niente poco di meno che di 3 miliardi di dollari all'anno. Quindi è un numero veramente significativo. Con l'avvento della FUE, quindi con la chirurgia per trapianti di capelli minimamente invasiva, questa procedura ha prodotto una maggiore consapevolezza e richiesta di servizi di trapianto di capelli da parte di un numero sempre maggiore di uomini. Gli uomini sono i protagonisti. Ciò che è particolarmente degno di nota, ma direi note dolenti, è che i servizi di restauro dei capelli sono ora affetti, affollati, sono offerti da molti medici che entrano nel campo delle cure primarie, vengono quindi dalle cure primarie e da altre specialità come la chirurgia estetica. Abbiamo parlato in qualche puntata precedente di questo discorso, abbiamo detto come questo non è una nota positiva, non lo è per niente. Comunque questi servizi includono principalmente la FUE piuttosto che la chirurgia tradizionale della strisce o FUT che ormai è completamente obsoleta, tra virgolette. Non è assolutamente vero che con le nuove tecnologie erano disponibili i set di competenze richieste, quindi l'insieme delle competenze richieste al medico, chirurgo e al suo staff, siano inferiori rispetto a qualche anno prima. Questo assolutamente non è vero. Anzi direi che questa è la grande illusione di questo settore del ripristino dei capelli. L'illusione che con costi bassi e con del personale che alla fine non si sa nulla della loro qualificazione, si riesca ad ottenere la famosa quadratura del cerchio. Cioè pago poco, ho un ottimo trapianto di capelli e resto felice tutta la vita. Questa è appunto una grande illusione. Lo ripetiamo e lo ripetono anche i professionisti più accreditati, quindi non è una cosa soltanto che viene dalla forea del Dr. Cole, ma viene da tutti i membri dell'International Alliance for Air Restoration Surgeons. A questo punto io farei una parentesi, direi questo. Io ho parlato con diverse persone recentemente, interessate quindi a ripristinare i loro capelli, a riveli nuovamente, e mi hanno detto come sia difficile di stricarsi in una giungla di proposte esistenti. Un'aneddota che mi viene in mente, ero al telefono con un potenziale paziente italiano e questo mi ha detto che mentre stavamo conversando, abbiamo parlato più di 20 minuti, gli sono arrivate 8 email di offerte di trapianti dei capelli. Cioè, come dire, è peggio che richiedere un prestito dove vi subissano di email immediatamente, dal momento in cui avete dato l'email e il numero di telefono, col trapianto dei capelli evidentemente è la stessa cosa. È un settore sovraffollato, più marketing che pratica medica, come abbiamo detto tante altre volte in precedenza. L'attenzione nel pubblico viene ricercata puntando sull'innovazione, come si fa con le automobili, ha la marmitta più elastica, ha più cavalli, ha più tenuta di strada e in generale come si fa con i beni di consumo. Quindi il mio telefonino fa anche il caffè. Grandioso. Si omettono degli aspetti di base fondamentali per quanto riguarda la chirurgia e il trapianto dei capelli, che servono per fare una scelta vincente del chirurgo. Io li ripeto, vi li assumo, più che altro li assumo, e sono questi. L'importanza di avere un'esperienza pluriannale, nel settore specifico. Stiamo parlando della FUE. Il suo perfezionamento continua nel tempo facendo solo trapianti di capelli. Solo trapianti di capelli. Non nasi, non liposuzioni, non addomi, non orecchie, non cambiamenti di sesso. Questo per essere chiari. Un chirurgo è bravo quando fa esclusivamente quella operazione. Quindi il trapianto di capelli è solo quello. Ho messo un po' di enfasi, ma è la verità. Un altro punto importante è avere un nome riconosciuto a livello internazionale. Cioè essere una persona conosciuta e apprezzata da organizzazioni serie, come appunto la IAHRS. L'importante è avere numerose casistiche di successo, reali. Cioè reali casistiche di successo, vere. Quindi nome e cognomi dei clienti, quando questi li vogliono dare chiaramente. Perché molti restano anonimi. Le capacità artistiche del chirurgo. Perché l'operatività in se stessa del chirurgo non significa che abbia un talento artistico. Può essere un magnifico tecnico. Ma non avere minimamente quella sensibilità artistica per riplasmare i capelli sulla testa di una persona. E da qua deriva il fatto di avere capelli a bambola. Quindi da una parte e dall'altra. O rimediare a interventi fatti male perché ci sono cicatrici profonde. Mi era venuto in mente un particolare riguardo questo. Riguardo il fatto dei capelli a bambola. Ed esattamente un particolare riguardo il body hair transplant. Cioè io ho intercettato un'offerta di 5.000 graft fatta da una clinica. Non vi dico il nome. Non vi dico il paese. Ma ve lo potete immaginare. Dove dicono che avrebbero preso 5.000 graft dai peli del torace. Io sono rimasto veramente sbalordito da un'osservazione del genere. Perché? Per un motivo semplicissimo. Sapete benissimo che i peli della barba hanno una durezza. I peli del torace sono decisamente sottili e molto molto teneri. Quindi c'è una bella differenza. Ora come fai a trapiantare 5.000 graft su una testa prendendo i peli tutti dal torace? Cioè ottieni una capigliatura che assomiglia a quella di una caricatura. Non i tuoi capelli originali. Però di quest'ecostoria se ne sentono 10 ogni giorno. Andiamo avanti sulle caratteristiche che un chirurgo deve avere per essere effettivamente scelto da voi. utilizzare strumenti di alta qualità. E questo significa costosi. Cioè non potete immaginare quanto le cliniche di bassa categoria risparmino sugli utensili e sugli strumenti operatori. In una puntata precedente parlammo dei punzoni. Parlammo della differenza che c'è un punzone che costa 20 dollari da uno che ne costa 600. Cioè cercate un attimo di comprendere queste cose perché sono importanti. Quindi voi pagate poco perché avete poco. Non c'è non c'è altro non c'è altra soluzione. Infatti avete poco perché? Perché il transaction rate cioè il numero di unità follicolari in percentuale che si tagliano durante l'estrazione tramite i punzoni. Questo è un parametro fondamentale di comparazione da tenere presente. Quindi il 10% di transaction rate è già considerato delle cliniche di buon livello. Noi qui facciamo al di sotto del 3%. Quindi è un terzo dei migliori livelli di transaction rate. Perché? Non soltanto perché John Cole è un master ma perché gli strumenti sono estremamente costosi. Sono estremamente raffinati. Sono estremamente validi. E questa è la differenza. Questo fa la differenza. Perché quando il punzone vi entra dentro la testa entra minimamente e non rovina le unità follicolari restanti in maniera tale che l'area donatrice non viene depletata e non viene rovinata. Come avviene in molti altri trapianti a basso costo. Il risultato si vede dopo un anno, un anno e mezzo. Si vede. Un altro dato importante. Il numero di unità follicolari trapiantabili in un giorno senza strapazzare il paziente. Senza stressare gli operatori e senza peggiorare la qualità finale. Io ho fatto due interventi. Il primo di 660 graft e il secondo di 1120, quasi 1200. E vi posso assicurare che la differenza fra 600 e 1200 l'ho sentita. L'ho sentita nel senso che comunque l'intervento è stato più lungo. Immaginate chi vi promette di mettere 4000 graft in un giorno. Cioè diventate scemi voi. Diventano scemi gli operatori e anche il personale di supporto. Cioè queste sono bugie. Sono veramente delle bugie. Un'altra cosa da tenere in grande importanza è la presenza del team operatorio. Che sia un team operatorio specializzato, esperto, efficiente, affiatato e soprattutto consistente. Cioè che non cambi continuamente perché il personale ruota da una clinica all'altra. Il rispetto delle norme igieniche. Le norme igieniche fondamentali. Cioè quelle importanti. Cioè si sta parlando comunque sempre di un intervento dove c'è comunque un necessità di un alto livello di sterilizzazione. Quindi non soltanto del liquido che riceve i graft ma anche di tutto l'ambiente della clinica. Quindi ci sono dei paesi dove questo discorso è assolutamente secondario. Sì voglio essere proprio chiaro, diretto, non avere pelli sulla lingua. Questo discorso è secondario. E comunque c'è molta manica larga. Cosa che invece in altri paesi come questo o anche in Italia non è. Non è così. Per finire alta qualità e basso prezzo sono due cose che vi sfido a coniugare insieme. Cioè chi è bravo e dirmi che ha un alta qualità e un basso prezzo mi porti delle prove evidenti di questo. Perché il costo di un trapianto dei capelli non dovrebbe mai essere in assoluto il fattore principale per effettuare una scelta. Mai. Le probabilità di insuccesso di un trapianto a basso costo sono considerevoli in termini di risultato finale. Ogni anno, vi abbiamo detto mille volte, alla Foreira il 40% dei pazienti viene a mettere a posto trapianti fatti male. Uno, due, abbiamo avuto tre, quattro, dieci pazienti che hanno avuto tre interventi prima di venire qua. Uno peggio è l'altro. Vi immaginate quanto hanno speso queste persone per risparmiare la prima volta? O perché sono andate da un chirurgo cattivo di basso livello? Immaginatelo. Ma tornando sulla scia principale del discorso, quindi la combinazione della FUE con l'SMP, non ci casco di nuovo di micropigmentazione, il discorso principale è questo. Il tremento dei capelli ha la limitazione intrinseca nella fornitura dalla parte dell'area donatrice. Quindi ci sono soggetti, abbiamo diversi pazienti con una calvizia estremamente avanzata, che hanno un'area donatrice decisamente insufficiente. Quindi la richiesta dei capelli è sempre proporzionale alle dimensioni dell'area calva. Quindi se c'è un'area calva, un Norvus 6, un Norvus 7, io ho bisogno di tantissimi graft e se non ho un'area donatrice folta e ricca non li posso avere. L'area donatrice costa generalmente il 20-25% della quantità di capelli originari in uno stato perfetto, quindi precaduta. E l'area donatrice fa parte di questa ghirlanda di capelli che sta intorno al lato della parte posteriore della testa, che in molti casi non corrisponde al fabbisogno di capelli richiesto per un trapianto. Questa corona di capelli di solito dura la vita del paziente, quindi fino alla fine. Nella pratica del Dottor Collo negli ultimi 16 anni, eseguendo trapianti di capelli su migliaia di pazienti con modelli avanzati di calvizie, quindi modelli Norvus classe 6 e 7, molti di loro hanno avuto procedure tra 7.000 e 10.000 innesti. Nessuno si sogni di pensare in un giorno. Immagino che nessuno lo faccia. Tutti questi pazienti erano caucasici, quindi di razza bianca, con la densità di capelli donatore, donatrici, superiore alla media, quindi che fornisce un numero elevato di innesti raccolti in più procedure chirurgiche. Con persone di origine asiatica o africana, la densità dei capelli dei donatori è più bassa, quindi è un 20% in meno per gli asiatici e addirittura 30-40% in meno per le persone africane. Per ridurre il numero di interventi chirurgici di trapianto e rendere più facile per i pazienti raggiungere i loro obiettivi in meno tempo e a costi minori, il Dr. Collo ha sperimentato con successo da anni la micropigmentazione, ci ho riprovato a dirla, e l'ha combinata col trapianto di capelli al fine di risolvere i limiti di domanda offerta di unità follicolari. L'uso di SMP può creare una chioma dall'aspetto più pieno, anche quando la densità effettiva dei capelli è bassa. L'unione di queste due modalità è stata eseguita nella pratica for air negli ultimi 8 anni, con svariatissimi casi di successo, soprattutto di soddisfazione del cliente, che è la parte più importante. La combinazione di queste due tecnologie rifletta una riduzione del numero di procedure di ripristino dei capelli che il paziente dovrebbe fare per ottenere il risultato desiderato. Quindi con la FUE e la SMP combinati insieme possiamo affrontare i problemi di calvizie e diradamento di quasi il 100% dei pazienti di tutte le razze, indipendentemente dal grado di perdita dei capelli presente. SMP comporta il posizionamento di una serie di punti tatuati sul cuoio capelluto, quindi ne modifica così il colore e l'aspetto. Lo schema puntinato può creare una normale capigliatura apparente in assenza di capelli. Quindi questo pattern punteggiato viene posizionato sopra una capigliatura diradata, ad esempio un paziente con trapianto di capelli che raggiunge una densità normale, quindi non la raggiunge, e ha una grande lopecia ha bisogno di una SMP perché questo gli porta una testa piena di capelli dal punto di vista della visibilità esterna, cioè come lui si vede e come lo vedono gli altri. Ciò crea una visione molto efficace per la maggior parte delle persone e soddisfa il loro obiettivo di mostrare una chioma ricca di capelli. Nella maggior parte delle pratiche tradizionali di restauro dei capelli, un singolo intervento chirurgico sarebbe eseguito da un secondo e forse da un terzo intervento per ottenere la pienezza desiderata. Vi ricordate prima un Norvus 7 si parla di 7000-10000 graft, quindi si parla di almeno 4 interventi per realizzarlo. Quando viene utilizzata l'SMP, invece di un secondo, di un terzo, di un quarto intervento, si attiene un bel risultato combinandolo insieme al trapianto. Quindi l'SMP è un trattamento per capelli diradati. Quindi una cosa che mi viene in mente è questa, il trapianto dei capelli ad esempio è meno efficace nel trattare i capelli che si stanno diradando, in particolare quando l'area di diradamento diventa più ampia. Nel caso delle donne, l'80% ha un assottigliamento post-menopausa o comunque genetico e ha una perdita dei capelli troppo diffusa per il trapianto. Molte di queste signore hanno una significativa miniaturizzazione dei capelli nell'area donatrice, quindi rendendo la meno ideale come fonte per i capelli da trapiantare. La maggior parte delle donne oggi ricorre all'uso di polveri, paste, prodotti per capelli, che permettono ai capelli di addensarsi mentre si riempiono di acqua. Spruzzano anche dei correttori per i capelli che si vanno assottigliando. Abbiamo utilizzato l'SMP come una modalità di trattamento di molte donne con capelli diradati. Medici SMP appositamente addestrati producono schemi punteggiati molto elaborati sul cuoio capelluto per imitare i follicoli piliferi. L'anestesia locale consente un'esperienza senza dolore, quindi è un trattamento decisamente molto blando dal punto di vista del dolore fisico. Dirvi che le donne che si diradano i capelli in modo diffuso sono circa la metà di quelle che attraversano menopausa e per queste non esiste una terapia medico-chirurgica altrettanto efficace. La cosa importante è questa. Nell'SMP è importante avere un operatore che sia schillato, che sia bravo, che sia effettivamente in grado di effettuare bene anche dal punto di vista artistico l'SMP. Questa SMP è cominciata dal 2000, però c'è un netto spartiacque tra i risultati e le tecniche prima del 2010 e quelle successive al 2010. Quindi se vi capita vedete entrambe i risultati di prima e dopo questo anno spartiacque e vedrete che c'è una notevole differenza. L'SMP è un'arte ed anche una scienza. Molte cliniche offrono la procedura ma sono consapevoli che l'applicazione dell'SMP richiede abilità e esperienza. A maggior ragione si è abbinata a un trapianto di capelli. In Foreir gli specialisti SMP sono di alto livello e con una preparazione molto accurata. Conoscente il dottor Cole nessuno resiste se non diventa bravissimo. Se ne va prima. Un motivo per cui siamo tra le cliniche leader per offrire questa procedura. Una cosa importante da dirvi è questa. È meglio avere una magnifica attaccatura dei capelli senza capelli che avere delle linee disegnate male. Perché veramente sono bruttissime da vedere. Una procedura SMP di successo può richiedere anche tre sessioni. E il numero di sessioni dipende in realtà dalla quantità di SMP che è richiesta dalla tua testa. I motivi per le sessioni di SMP multiple includono la copertura naturalmente di zone ed epauperate di capelli e nascondere cicatrici dovute a precedenti trapianti con la tecnica della follicola Uni Transaction. Gli specialisti SMP non sono sempre medici esperti. Tuttavia i pazienti devono essere consapevoli che esiste un'enorme differenza tra uno specialista SMP e un medico specialista in trapianto di capelli. Sono due cose distinte. Non tutti gli specialisti SMP sono uguali. In effetti molte persone che lo offrono sono decisamente dei ciarlatani. E quindi ritorniamo al solito discorso. Prezzi bassi, lavori malfatti. O comunque a grande rischio. State sempre attenti. Qualcuno parlava di trattamenti laser. I trattamenti laser sono possibili in un simile scenario. Però bisogna stare molto attenti alla profondità e dal pigmento, dal tipo di pigmento. Inoltre i laser possono anche danneggiare i follicoli rimanenti sulla cute. Ciò detto, anche i migliori specialisti di SMP mancano di un'area di competenza, nella quale i chirurghi di trapianti di capelli eccedono ed è il camuffamento delle cicatrici. Il dottor Coll eccella in particolare nelle soluzioni creative, lo sappiamo questo, l'abbiamo visto, che combinano le SMP con la Coll Isolation Techniques o con la Coll to Go, per correggere i trapianti deludenti o dannosi fatte da altre cliniche. Questo lavoro riparativo è la principale specialità della clinica For Air. Vi ringrazio per questa lunga galoppata che abbiamo fatto e spero che vi abbia dato dei spunti di riflessione seri e importanti. E dalla clinica For Air del dottor John Coll in Atlanta, Georgia, Stati Uniti, vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo giovedì. Grazie a voi.